Ad è stato scalpore con un tam-tam anche importante su Facebook l'episodio preoccupante relativo al mancato abbassamento delle sbarre del passaggio a livello con il treno che era sopraggiunto pochi secondi dopo che un ignaro automobilista al volante della propria macchina aveva appena attraversato le rotaie. L'episodio per fortuna senza conseguenze si è verificato sulla provinciale Ragusa Modica al momento del passaggio del convoglio diretto verso il capoluogo poco dopo mezzogiorno. L'automobilista ha attraversato la linea ferrata ma ha visto arrivare subito dopo il treno senza esitazione ma con un comprensibile pizzico di apprezzione l'uomo ha attraversato subito i binari scampando il pericolo di un tragico impatto per una manciata di secondi. E stere fatti anche gli automobilisti che seguivano la macchina e che si sono fermati appena in tempo prima del passaggio del treno. Il fatto è stato segnalato a Trenitari anche perché non è la prima volta che un passaggio a livello resta aperto pur con un treno in transito. Il caso più recente a Ragusa in via Pestum è che scatenò non poche polemiche ma anche nel passaggio a livello in oggetto sulla Ragusa Modica si erano nel recente passato registrati episodi simili a causa, poi si accettò, di un malfunzionamento generalizzato del sistema automatico di alzamento e abbassamento delle sbarre, poi risolto. Ora si è dunque punto e a capo l'auspicio è quello che nelle more che vengano presi dovuti provvedimenti quanto prima non ci scappi qualche tragedia.